Salon Dry Control è un asciugacapelli professionale da 2200 Watt, capace di creare un flusso d'aria potente per un'asciugatura e messa in piega più rapida e semplice che mai. La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata. Salon Dry rispetta e protegge la capigliatura. L'elemento in ceramica evita che si secchino i capelli producendo calore in modo uniforme, mentre lo ionizzatore elimina l'effetto crespo, ammorbidisce e rende più lisci i capelli. Salon Dry Control è un asciugacapelli completo ed è il prodotto ideale per chi ama curare il proprio look rispettando i capelli. Grazie. Grazie.